Sop sui amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo di nuovo con la Becelorette Challenge! Eccoci qui, siamo di nuovo nella villa, lei si sta preparando, si è appena svegliata, ieri sera lei ha fatto un po' di yoga, è andata a correre, ha fatto un bel bagno caldo per cercare di schiarirsi un po' le idee sulla giornata che aveva trascorso, su tutte le conoscenze che aveva fatto, tra l'altro di spontanea volontà Eric l'ha abbracciata, vi mostro la foto, lui ha trovato il coraggio e è andata ad abbracciarla così all'improvviso mentre lei stava bevendo il suo tè verde salutare e l'unico altro che ha parlato con lei di iniziativa è stato Kyle, Frey scusatemi, e mi fa piacere, c'è qualcos'altro, abbraccia di nuovo? Va bene facciamoglielo fare, lui vuole venire ad abbracciarla e quindi lasciamo, lei sta andando giù per uscire tutti insieme, c'è l'uscita di gruppo quest'oggi e quindi lei ha già in mente dove andare perché ovviamente ha scelto lei il posto, quindi lei sta andando giù verso il salone per vederli, ecco ciao Malik buongiorno, si è svegliato anche lui, dove stai andando? In realtà non sta andando verso il salone, è arrivato anche Momoro in pigiama, ah in bagno, vabbè ti ha chiamato? Pensiamo ad andare in bagno, che carini, ok hanno deciso di chiacchierare con Drake, sta facendo tutto lei ragazzi questa cosa mi piace in realtà per cui lasciamo gliela fare Volevo vedere anche un attimo come stanno i ragazzi appunto, lui non ha fame, perfetto sta bene, lui ha fame quindi oh vai a mangiare così dopo usciamo non voglio che mangiate fuori dai Jacob appena ti svegli Tu pure vai a mangiare qualcosa, chiacchiera con Raymond, bene, tu vai in bagno e mangia, tu vai in bagno e mangia, ma scusate c'è l'autonomia, sì anche perché stanno facendo cose che non gli ho detto io per cui ci deve essere per forza Infatti, solo che mi domando perché non vado in un bagno e un'autonomia, ma davvero vuoi mangiare? No, mangiare pop-up corn no tesoro dai Tu, vabbè vai in bagno un attimo giusto per essere sicuro, tu stai bene quindi ho che a posto Ok dai parla con Drake allora, visto che vuoi parlare con lui Tu non hai molta fame quindi lasciamo stare, non ti faccio mangiare Malik C'è qualcuno che non ci considera granché, però la situazione ragazzi è questa, cioè quello con cui ha meno affinità al momento è Malik ma tanto dobbiamo fare anche l'appuntamento veloce quindi io presumo che andranno tutte al massimo e quindi dovrò basarmi su quella romantica a quel punto Lui perché, cosa? Senza lavoro, per la mancanza di occupazione Eh beh, per il momento Raymond non posso darti un lavoro, mi dispiace Lui è un sim che comunque evidentemente ci tiene tanto la sua carriera e nell'idea di non farla un po' lo infastrisce Dice Jacob però dai svegliati che non possiamo aspettare tutto il giorno te Acquisiti l'abilità di benessere, Raymond ti sei messo a fare yoga? Oh che bravo, tra l'altro ieri mentre faceva yoga Momoru è andata a fare yoga accanto a lei Beh, che sia una tattica magari un po' timido per parlare apertamente E quindi approccia semplicemente cercando di iniziare a fare yoga insieme alla nostra Marissa, chissà Lei si è seduta qui a guardare Malik Devo farle una fotina, mi piace questa immagine Stai guardando Malik? Ora devo capire che cosa stai guardando Sì, sta guardando Ma che faccia è questa? Marissa, perché questa faccia? Cos'hai? Cosa ti turba? Va bene Sì, avevo detto che ci vedevamo direttamente ma lei non sa qui a sedersi Ah, mal di testa Povera piccola Eccoci, siamo arrivati In realtà volevo portare... è ferragosto? Mannaggia! Ah, no Cavolo, ok sì, ho messo io ferragosto Ma mi ero dimenticata che era già oggi Comunque gli avevo mandato a Newcrest in un lotto dove c'erano anche dei divertimenti acquatici Quindi sarebbero state anche in tema Ma purtroppo pioveva dirotto Quindi ho cambiato scenario Siamo venuti a Willow Creek A Windenburg, scusate Ma tu, Raymond, magari ci vogliamo vestire? È caldo, sì, dai, vestiti per il caldo Allora... Quello che vuoi, basta che ti cambi Ok Lei ha mal di testa Il mal di testa lo sta attediando Lui è arrabbiato, perché? È infastilito dall'abbraccio, chissà Sta abbracciato... abbracciato... abbraccia anche Drake Sta abbracciando un po' tutti Vediamo se c'è un tavolo abbastanza grande per ospitare tutti quanti Ovviamente non c'è Stava un pensiero Facciamo i seriti insieme comunque, dai Lei si è messa accanto a Drake Nel tavolo con Jacob e Kyle Magari parliamo un secondo con tutti Fa una barzelletta toc toc Vainese rallegra Racconta una storia sensazionale Vai a caccia dei complimenti, Marcel, no Dov'è? Ok, lui Anedoto divertente Chi ci manca? Eccolo qua, anche lui Parla del tempo nuvoloso, sì Stiamo parlando solamente con loro tre al momento No, questo del club non ci interessa Sono andati tutti al computer, benissimo Ragazzi, cioè, tranne lui che si è messo a leggere un libro Anche lui Che bravi Mi piacciono gli uomini che leggono Racconta una barzelletta No, direi voltante no Spettegola Fa un complimento sincero Complimentati per l'abito Ai ragazzi come si stanno trovando qui Se si stanno divertendo Se si sentono a loro agio Perché lei comunque alla fine Incredibilmente, a differenza di quanto pensava Si sente abbastanza a suo agio in questo posto Mancano persone Mancano persone, per esempio Dov'è Raymond? Ah, è qua Oddio, non lo riconoscevo col cappellino Sono proprio incoglionita, ragazzi Parla anche con Raymond Fa un complimento sincero Anestese per le sonate pianoforte Anche con lui di nuovo Una barzelletta sui vecchi tempi Va bene Rallegra Rallegra Qui ragazzi Le interazioni sono tutte amichevoli giustamente Io spero che esca anche qualche Ora fate un po' voi Io vado a caccia di qualche desiderio Vuoi prendere una bevanda al bar Ok, ma Non esprime niente Non esce mai un capriccio con loro Con nessuno Con il cane Vuole abbracciare qualcuno Ma non è che dice Voglio abbracciare Pinco, Caio e Sempronio Oh, un desiderio Con Jacob Strano Quando le accapricci Sempre con Jacob Usa interazioni buffe Facciamolo Buffo Racconta una barzelletta Toc toc Stiamo parlando con tutti però Questo mi fa piacere Ci sarebbe anche da andare a un concerto In realtà Però magari li mando dopo Divertimento acquatico Congelato Magari a una certa Torniamo a casa E continuiamo Questo appuntamento di gruppo In piscina Almeno facciamo anche la La cosa di Ferragosto Ha smesso di parlare con tutti Non esce una pera Ma niente Diventa flertante Eh, io lo farei volentieri Ma Bacia qualcuno Tesoro Non possiamo Specialmente se non mi dici chi Ma comunque non siamo in un appuntamento Quindi non possiamo baciare proprio nessuno Jacob Fai romanzia Oh signore Ma perché sono fissati Sim con la romanzia Ma Ma perché Ma beh Fai romanzia con Jacob Visto che Hai espresso il desiderio Ehi Ti va di guardare un po' Al cielo Potremmo Eh, sì Sì, sai Parlare un po' Cercare qualche forma E voglio vedere ora che stai guardando Perché ti metti sempre in posti assurdi Va bene Cioè questa ci passa Sopra Ops Scusate Eh, sempre sotto le travi Comunque Si mettono a fare romanzia Sempre Niente Ragazzi Ragazzi Niente Veramente Che tristezza Guarda Io vi manderei però anche A casa Vi dirò Così Andate un pochino in piscina E fate il divertimento acquatico E magari facciamo anche un gelato E siamo arrivati a casa ragazzi Farei subito un gruppo Almeno Gestisco un pochino meglio La situazione Allora Noi veramente perfide Ce ne freghiamo Se la maggiordoma Deve dormire Ma ci deve fare delle bevande Poi la mandano anche a dormire Dai Non sono così cattiva Intanto Lei sta andando a preparare un gelato Ha detto Con molto entusiasmo A tutti Che avrebbe preparato Un bel gelato al cioccolato Per passare Questa giornata di ferragosto Tutti insieme Nel migliore dei modi E il gelato al cioccolato A chi non piace Quindi Dai Mentre il maggiordomo Ci prepara le bevande da bar Spero Lo sta facendo Dove lo sta facendo Sì Perfetto Oh Lei era qui con Con Oddio Lapsus Con Eric Brava Prenditi il tuo cono Ragazzi State un po' insieme Si è messa accanto a Eric Lei c'ha veramente Comunque una Bella sintonia Con questo simbolo Mi piace molto Imparala a conoscere Già che è qui accanto Se tu uscisse Qualche desiderio Mi farebbe piacere Malik Tu vuoi Parlare con noi No Non te ne frego Un tubero Organizza una festa Compro una Arnia No Non credo Ma davvero Un desiderio con loro Per cortesia Comunque lei va d'accordo con tutti Non c'è nessuno con cui ha avuto Problemi Ecco Discutere gli interessi Conversazione profonda Parliamo con tutti Spettegola Lui Gli piace stare In In Asciugamano Il che non è che ci dispiace Perché insomma Bel vedere Guardate che carino È Raymond Anche Ma sono tutti carini Questi sì Ma non Per ora sta parlando Solo con Jacob E Rick Ma te sta mangiando Sto coso Oh Jacob Ragazzi Sempre Jacob Quando ha Dei desideri E lui è andato a dormire Ok Ottimo No Non dormiamo ragazzi Forza Tuffati per il gruppo Salto mortale all'indietro Vai Pavoneggiati un attimo Hai mangiato questo gelato Quanto ti ci vuole Signore Ragazzi È passata praticamente un'ora Da chi ha finito il gelato E si è Liberata La vescica Mettiamola così E lei Ha chiamato tutti qua fuori Per un po' di divertimento In piscina Aquatico Ci vuole E magari poi andiamo anche a questo concerto Che lei adora andare a un concerto Lo so tanto siamo le un persino Ma a noi non ci interessa No Sta per fare una figuraccia Oddio Ah Dolore Lui si è impastrito Perché l'hai schizzato Va bene Tuffo disastroso Beh Non è andata molto bene No cara Per niente Vabbè Dai Spruzzalo Si è rimasto solo lui Qui Spruzzalo E perché no Terminiamo questa giornata Andando a questo concerto Che ovviamente è un'attività Di questo No non sociali Scusate Altra attività Vai a un concerto E andiamo con tutti quanti E' così che terminiamo questa giornata D'appuntamento con i contendenti E anche quella di Ferragosto Sono tornati tutti quanti Lei è andata in costume Io non dico altro Non voglio dire altro Direi che li mando a dormire Ci vediamo domattina Per Marissa Comunque questa è stata Veramente una gran bella giornata Si è divertita un mondo Cioè Eric è anche flertante Però ha desideri con Jacob Ragazzi hanno tutti i desideri con Jacob Non lo so Jacob Cos'hai? Sei come il miele per le api Cioè Tutti vogliono qualcosa Da Jacob Parlarci Abbracciarlo Fare romanzia Quindi comunque Lei va a letto molto serena Stasera Divertita dalla giornata Contenta che sia andata bene Anche se gli manca comunque La sua famiglia E Il concerto Le è piaciuto veramente tanto E Sì ok Quindi va beh Niente Va a dormire Contenta stasera E domani Ci sarà tutta la sequenza Di appuntamenti veloci Dovrò ragazzi Aggiungere un 15 Di Romantico Con tutti Per poter chiedere un appuntamento Dopodiché Con il trucco Lo riporterò a zero Subito Appena chiedo l'appuntamento Perché altrimenti Non posso Non posso chiederlo Si è svegliata E a stamani lei Si è svegliata Un pochino Nervosa E quindi decide Di inviare un messaggio A sua sorella Per chiederla Comparire Un consiglio No non ti vesterei così Per l'appuntamento Mia cara Te lo dico subito Quindi cambia abito E vediamo Chi sarà Il primo sim Con cui uscire Se sarà casuale O se invece C'è qualcuno Con cui no Cento 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 Novantasette Kyle Giusto Sì Cento Malik Raimond Cento Momoru Cento Quindi ragazzi Cominciamo Sì Iniziamo con Kyle Kyle ragazzi Siamo arrivati Lei in realtà Si è cambiata Si è messa Questo vestito Ok dai Salutiamolo Abbraccialo Per cominciare Ah giusto Togliamo Subito La relazione romantica Riportiamola a zero In maniera Tale Che Non cambia niente Perfetto E lui L'ha portata Ha deciso Visto che è mattina Di portarla A fare colazione In questo posto Qui a sempre Del Sol Valley Non ci siamo Allontanate Troppo Ecco Quindi chiedete Un tavolo Dice Ma io spero Che ti piaccia Qui Marissa Non conosco Non conosco Molto bene Questi luoghi Certo Se eravamo Nella mia Granite Falls Perché ormai Lui l'ho immagina Di Granite Falls Avrei saputo Dove portarti Qui Purtroppo Ho dovuto Un po' Affidarmi A trip A sim Advisor E cose Del genere Spero Però che sia Buono Beh dai Falle Testiamolo Proviamolo Subito Che carino Questo rotto Bellissima Quest'idea Ok Allora Dobbiamo arrivare A livello oro Dell'appuntamento Socializzare Scambiare Impressione Sul cibo E fare conversazioni Profonde Quindi facciamo Subito Le conversazioni Profonde Conversazione Profonda Dobbiamo farne Due E facciamole Guarda Una Falle anche Un complimento Sincero Dici dai Quindi tu A Granite Falls Cosa fai Per vivere Hai fatto Ma io là Ho un pezzo Di terra Sai Ho delle api Vendo Coltivo Delle verdure Degli ortaggi Veramente Spettacolari Quindi insomma Lui è un po' La vita Naturale Ecco Lui ama La natura Infatti Gli sta raccontando Proprio questo Io sai Adoro La natura Una volta Mi piacerebbe Portarti a pescare Se ne avrò un modo Infatti Io non ho mai pescato In vita mia Però perché no D'altronde È un modo Per fare cose nuove Chiediamo Della sua giornata Quindi Sei contento Di essere qui con me Oggi In questo posto Sì 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 Sono veramente felice Mi piace parlare con te Qualche desiderio Però ragazza Per favore Sei a un appuntamento Almeno adesso Nesce niente Con Kyle Basciare No Se non è specifico Assolutamente no Flerta con qualcuno Non so ragazzi Se fai flertare Perché Non è che È specifico Poi in teoria Non potrei Quindi no Almeno che non sia Un desiderio specifico Con qualcuno Non lo faccio Io li lascio andare Random Li lascio parlare Così vediamo Cosa fanno Da soli Senza che io Ci metto Troppo zampino Oh è arrivato Anche il cibo Ottimo Te per favore Mi esprimi Un capriccio Che sia anche Solo uno Che so Quando impara A conoscere Interazioni buffe Qualsiasi cosa Racconta una barzelletta Sui vecchi tempi Ok Questa vuoi fare Ah flertante Fa qualcosa di romantico Se non altro Lui vedo Che la sta facendo ridere Bacia qualcuno Tesoro O sei specifica O nada Incontro un nuovo sim No Ne abbiamo sette Non c'è bisogno Lui per curiosità Ha qualche desiderio Con lei Jacob Non ci credo Hanno tutti desideri Con Jacob Solo con Jacob Oh Chiacchiera con Marissa Beh ci sta chiacchierando Almeno lui Però Hai il desiderio Di conoscerti Tu non mi esprimi La mazza Qui abbiamo finito Di mangiare Lei non ha tratto fuori Un capriccio Che fosse uno Però siamo arrivati A livello oro Quindi Ora che abbiamo finito Paghiamo il conto E concludiamo L'appuntamento Con Kyle Quindi Abbraccialo Per salutarlo E gli dirà Grazie per la Mattinata Sono stata bene Ci vediamo a casa Però adesso Non dobbiamo andare avanti Bene Ci vediamo al prossimo appuntamento E farò lo stesso gioco Ecco C'è il secondo appuntamento Con Malik E visto che lui è un sim Attivo E anche lei Le piace lo sport Ho deciso di portarlo In palestra Dobbiamo sederci E parlare con il sim Accompagnatore Sì Perché poi vabbè Fondamentalmente Non voglio fargli fare Sediamoci qua Sulla panchina Non è che voglio fargli fare Attività sportive E avviamo Flerta No Quello non lo posso fare Parla dei sogni E gli dici Guarda Allora L'avrà chiesto lui Cosa ti ha spinto A Venire A partecipare Alla Becilorette Oddio Scusate Devo togliere 23 Zero Perché L'appuntamento Era già aumentato Ok Cosa ti ha spinto Gli ha chiesto lui A partecipare A questo programma Alla Becilorette Lei gli sta raccontando Come mai Perché Guarda Io purtroppo Non ho avuto mai Molta fortuna Racconto una storia Convolgente Con gli uomini E però Sento di averne il bisogno Non so vivere Senza un uomo Però Credo che sia giunto Per me il momento Di Di come dire Di trovare un compagno Perché sento Questo Comunque Questo vuoto Conversazione profonda Ok Anche lei Li chiederà E tu invece Mi spiegare I miei Vorrebbero Vedermi sposato E Insomma Che dessi un erede Per La nostra Azienda Perché lui Non vuole dire Subito Che Molti soldi Perché non vuole Che questo Influisca Ciò che sente Marissa Quindi Facciamo queste Conversazioni Profonde E poi vorrei Lasciarle andare Un po' Random Per capire Bacia qualcuno Dai Qualcosa Desideri Dai Per favore Qualche capriccio Su di lui Almeno uno Ho un desiderio Chiacchiera Va bene Se non altro Qualcosa È uscito Un capriccio Almeno è uscito Quindi fa un'altra Conversazione profonda Dai Nel frattempo Vediamo se esce Altro Vai a pattenare A rotelle No va bene Adesso no Un altro Cosa Impara a conoscere Va bene Lo facciamo Io voglio Cosa è successo Qualcosa è andato male Vabbè Impariamola a conoscere Non so cosa Si è andato storto Vediamo lui Se ha qualche Desiderio Con lei Lui vuole fare L'arrampicata È annoiato Si sta annoiando Usa interazioni buffe Con Marissa Vabbè Finché sono queste Gliele lascio fare Racconto la barzelletta Sui vecchi tempi E poi A meno che non esca altro All'ultimo Finiamo l'appuntamento E andiamo al prossimo Non sto desiderando Di flertare con nessuna È proprio zero Lei Cosa state facendo Chiacchiera La braccia Oh che carini Dai Vabbè Quindi vi state salutando Perfetto Lui non sta nemmeno bene Fai romanzia No basta Romanzia Dai Flerta con Malik È uscito Flerta con Malik Cosa Chi è questo Non chiacchierare con Brent Freghiamocene di Brent Allora aspetta ragazzi Prima di Prima di chiudere Chiudere l'appuntamento Lei verrà qua A salutarlo Flertando però Con lui Quindi romantico Flerta Dai finalmente Ci sono qualcosa Di flertante Smuoviamo un po' Questa situazione Che altrimenti non Ok allora io vado Grazie Sono stata molto bene Anche se lui in realtà Si era annoiato Però va bene Oh Amoreggia con Malik Non me lo aspettavo Non c'era niente All'improvviso Marissa vuole addirittura Amoreggiare con Malik Beh ragazzi Un desiderio Io glielo faccio fare A questo punto Aumentiamo un po' La tempistica Con lui Intratteniamoci Ancora un po' Sto facendo anche questo Ragazzi Perché se no Non mi esce il primo bacio Solo per quello No pone una domanda Chi pinta No Flerta Sta salendo tantissimo Lui ha qualche desiderio Con lei a questo punto A parte giocare a basket Amoreggiare con Ragazzi Stanno Primo bacio Ragazzi Lei prima di andare via Lo saluterà Con un bacio A questo punto Sì Beh Io allora Devo proprio andare E bacio fu Ragazzi Cavolo Chiudiamo l'appuntamento Con Malik Oh signore Questo l'hanno fatto loro Ok ragazzi Qui c'è del tenero C'è molto tenero Moltissimo tenero Proprio i teneroni Non fanno una Non gli legano neanche le scarpe Ammazza che passione E lei resta anche flertante Però no Noi dobbiamo andare Lasciamolo stare così Perché questa volta è andato da solo E per oggi facciamo l'ultimo appuntamento E poi li riprendiamo Nella prossima puntata Al prossimo appuntamento Andiamo con Raymond Link Dai Sì Anche perché sono tutte a pari merito D'amicizia Per cui Allora lo faccio con voi Che anche con lui aumento Per chiedergli l'appuntamento Primo bacio Ma la tesora non esageriamo Dobbiamo solo chiedere un appuntamento Ed eccoci qua Leviamo subito la relazione romantica Che come ha chiesto La aumenta tantissimo Quando chiede l'appuntamento Lei con lui è andata a giocare a bullying Ovviamente lei ragazzi qui Sta venendo con Una sensazione un po' strana Perché insomma con Malik È scattato un bel bacio Alla fine ci sono stati molti Wow è stato Bello intenso Come appuntamento No Eppure pensavo Che all'inizio Non stesse andando troppo bene Magari dai Giochiamo un secondo insieme Da Tre frame Una cosa veloce Perché poi vorrei farvi Comunicare Andiamo Lui l'ha portata a giocare A bullying Ecco devo anche andare in bagno Se ce la fai a giocare Prima di andare in bagno tesoro Lei è venuta in bagno Secondo me comunque E anche per cercare di Guardate che sorriso che ha Cioè lei è ancora emozionata Per ciò che è successo a Malik Indubbiamente c'è una Forte attrazione Tra questi due Ora sono curiosa Come reagirà Nei prossimi appuntamenti Sono davvero curiosa Perché Ha basciato Malik Ma Ce la facciamo a giocare a bullying Ok A meno si è messa le scarpe Ma non ce la fanno a giocare a bullying Quindi ragazzi Niente Sedetevi insieme Parliamo Allora Spettacoliamo Diamo inizio Racconta storie Al sim Accompagnatore Quindi facciamolo Buffo Racconta una storia buffa E vediamo i suoi desideri Nel momento niente A parte se fa come prima Che è arrivato tutto insieme Da che non aveva neanche un desiderio A che ragazzi Desiderava addirittura amoreggiare E io questo non gliel'ho fatto fare Ma Anche lui gli sta un po' raccontando La sua vita Com'era l'infanzia Quello che E mi immagino anche Che abbia avuto qualche ex Un po' rompiscatole Quindi Gli sta raccontando anche di questo Ora dai consigli sulle relazioni Non mi sembra il caso Flerta Fai romanzia Basta sta romanzia No Sta flertando Però non abbiamo tempo Per altri appuntamenti Mi sa Vabbè Cerchiamo di farne almeno un altro Lei ha flertato Di sua spontanea volontà Tra l'altro Amichevole Ok Vai a cacciare i complimenti Va bene Cos'è Ammira le stelle Con Raymond Chiedere No Scusate Chiedi a Raymond Di diventare Il fidanzato Ma scherzi E lei in questo momento Vuole baciare qualcuno E questo ora è ovvio Vuole baciare lui Perché questi sono Sugli stati attuali Però non lo faccio Perché vorrei che fosse solamente Cioè io al momento Glielo blocco Ovviamente non può diventare Il fidanzato Però Questa cosa La devo tenere in considerazione Quindi a questo punto La faccio flertare Però Cioè non ho parole Le chiedi di diventare Il fidanzato Il fidanzato Cioè te parlare con lui Due minuti Già ha deciso che Lo vuoi con te In maniera definitiva Siamo anche già a livello oro Quindi ok Uh altri due Amoreggia Ammira le stelle Amoreggia No ragazzi Va bene Dai Primo bacio E poi amoreggiamo anche Allora a questo punto Cosa state facendo Stavano flertando Ok Fai una cosa sexy Guarda Con che ti sembro Beh tu Le stai dicendo Mi piaci tanto Sai E primo bacio Con questa che sta qui In mezzo alle pere Cioè Ma vai via Siediti insieme Così ti faccio fare Questo desiderio E concludiamo L'appuntamento Bacia Questo cos'è Ammira le stelle No vabbè Ma Ne ha baciati due Nello stesso giorno E con lui c'è addirittura A parte voleva amoreggiare Anche con Malik Quindi No ragazzi Non ho parole No vabbè Tesoro Vedo che le idee chiare Però eh Davvero Le idee molto chiare Lui che vorrebbe Flerta con Marissa Vabbè Primo Poi riflerteremo Fai fichi fichi No Raymond Mi dispiace Non possiamo fare fichi fichi Ok Vediamo Gli ultimi due Sua Mentre io blocco qui Il momento Congelo il tempo Niente più Capricci sul Raymond Pare No Ok Niente capricci sul Raymond Quindi concludiamo L'appuntamento Che è oro E così noi Vabbè intanto Vabbè intanto facciamola con loro Quindi sarà la prossima Quindi sarà la prossima Ancora sarà un appuntamento importante Eh beh tesoro Eh beh tesoro Non puoi stare qua E Ha baciato sia Raymond Che Malik E addirittura con Raymond Ha espresso il desiderio Di farlo diventare il suo fidanzato Cioè io sono senza parole Quindi va bene Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E il prossimo sarà Eric Lopez Di Simmi Flu Seguite anche il suo di canale Ve lo consiglio Se non lo state già facendo E niente Ci vediamo la prossima volta Con un nuovo episodio Della Bachelorette Challenge Subsul Sous-titrage ST' 501